Una tendina nera che copre la targa al momento giusto. Il trucco per non pagare il pedaggio ai caselli è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Varese. Un dispositivo elettronico artigianale azionato da un telecomando installato all'interno della macchina consentiva al conducente di oscurare completamente entrambe le targhe di immatricolazione con una tendina di tessuto nero. Il veicolo era stato segnalato più volte per aver passato il casello senza pagare. Fermato per un controllo, la barriera autostradale di Gallarate Ovest sull'autostrada 8 è stato sequestrato.